Laudetur Iesus Christus, Ave Maria Cari amici e cari fratelli nella fede, siamo finalmente giunti alla terza parte dell'Identikit del Catto Progressista. Come sempre seguiremo gli studi e gli scritti del sacerdote argentino Padre Julio Mainville, grandissimo teologo cattolico, grandissimo conoscitore del tomismo. Ecco, nel suo scritto sul progressismo cristiano, Padre Mainville conclude, oltre che esponendo il pensiero dei principali pensatori del progressismo cristiano, cioè Tegliade Chardin, Maritain, Le Manet, eccetera, e gli spiega quali sono le false basi di questo progressismo cristiano. La prima è la convinzione che il cattolicesimo, che la Chiesa Cattolica, deva comunque allearsi con questa civiltà moderna. Eppure questa civiltà moderna è una civiltà moderna intressicamente anticattolica, perché si basa sulla rivoluzione protestante di Lutero. E questo è un grosso errore, spiega Padre Mainville, perché la filosofia moderna, che sta alla base proprio di questo mondo moderno, ha un errato concetto del progresso, perché il progresso per queste filosofie, da Hegel a Kant, da Kant a Marx passando per Nice, hanno il falso concetto che l'uomo progredisce man mano, che diventa sempre più libero. Ma questa libertà viene intesa come emancipazione. Da chi? Da Dio. Dalla Chiesa, direbbe Lutero. Ma alla fine, pensiamo alla teologia della liberazione. A cosa vogliono essere liberati questi liberazionisti? Il professor Julio Loredo, a cui vi rimandiamo alla nostra intervista, autore del libro Teologia della liberazione, un salvagente di piombo per i poveri, spiega che vi sono varie correnti della teologia della liberazione. Vi ha anche una corrente che dice che l'uomo deve essere liberato da Dio, dalla religione. Le quattro rivoluzioni che hanno segnato la distruzione della civiltà cattolica, cioè quella di Lutero, quella francese, quella marxista, e infine quella, diciamo, culturale gnostica del 1968, hanno questo fine. Cancellare la Chiesa, per cancellare Cristo. Ci si può alleare con questo, per non soccombere? È un suicidio, non è una soluzione, è un suicidio. L'uomo progredisce quando nella sua libertà, perché Dio ci ha creato liberi, ci ha donato il libero arbitrio, capisce che deve tornare a Dio, che non è indipendente da Dio. Adamo ed Eva, mangiando dall'albero della conoscenza del bene e del male, volevano diventare come Dio e si accorsero invece di essere nudi. Non avevano nemmeno vestiti per coprire questa vergognosa nudità. Usarono delle foglie di fico. Fu sempre Dio che diede loro dei vestiti. Da qui si capisce, spiega padre Mainville, la tentazione filomarxista del catto progressista, del progressista cristiano. I cosiddetti cattocomunisti dicono di rifiutare l'ateismo dell'analisi filosofica di Marx, ma ne accettano comunque le teorie cosiddette economiche materiali, perché non sono altro che un'applicazione, forse un po' grezza, del Vangelo. Ma qui si dimenticano che il Magistero della Chiesa ha infallibilmente detto che il comunismo, il marxismo, è intresicamente perverso, perché la sua base, la sua radice è l'ateismo. L'uomo è il Dio di se stesso. Privato del pane spirituale, l'uomo se nota di odio, di invidia, e il pane materiale non gli basterà mai. Il progressista, il catto progressista, quello più spinto, più radicale, nega la trascendenza e quindi la provvidenza. Dio diventa soltanto un mezzo per raggiungere un fine. Siamo nel primo anno, per esempio, della dichiarazione di Abu Dhabi, questo cosiddetto Dio unico, che deve portare alla fratellanza universale, alla fratellanza umana. E così il progressismo, anziché far progredire l'uomo, lo fa regredire, li fa rinnegare il vero Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, facendolo tornare al neopaganesimo, al panteismo. Abbiamo visto la pace a mamma in Vaticano, adorata e venerata, alla presenza di un vicario di Cristo. Lo rende schiavo delle sue passioni, schiavo dei suoi vizi, dei suoi capricci. Può essere dunque un arrendersi al mondo, o tendergli una mano a questo mondo moderno, che è il mondo gnostico, anticristiano per eccellenza, una soluzione? Mostrare a questo mondo una Chiesa dal volto umano? No, ne abbiamo la prova in questi giorni drammatici, dove con la dialettica hegeliana si sta rinnegando tutto senza apertamente affermarlo. Il matrimonio è dissolubile, sì, ma ci sono delle situazioni eccezionali. Il celibato sacerdotale è una ricchezza, è un dono, sì, ma ci sono delle situazioni e dei territori particolari. Tutto è relativismo, tutto è relativo, perché l'uomo nel progressismo, nel neomodernismo, nel modernismo è un assoluto, questo è il principio di immanenza. L'uomo al centro, l'uomo con stoltezza, continua a commettere il peccato originale, mettersi al posto di Dio. E purtroppo anche i catoprogressisti conservatori, pur volendo continuare a difendere la dottrina della Chiesa, ci sono cascati. Ricordiamo la conclusione del concilio Vaticano II, che cosa disse Paolo VI, che la religione del Dio che si fa uomo si è incontrata, ma non scontrata, con la religione dell'uomo che si fa Dio. Fu scelto l'umanesimo integrale di Maritain come risposta all'umanesimo ateo del mondo moderno, ma hanno la stessa radice che pone Dio a immagini o rinnega o rifiuta Dio nel peggiore delle ipotesi. Questa non può essere la soluzione. L'umanesimo all'umanesimo. Perché quando si vogliono mettere le mani sull'uomo, in realtà si vogliono mettere le mani su Dio. Perché l'agnosi è diabolica, è satanica. Quindi quale può essere la soluzione? Il cattolicesimo integrale. Non l'umanesimo integrale. Il cattolicesimo integrale. Continuare a difendere e diffondere la verità. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. La Santa Chiesa Cattolica. Questo non significa voler tornare a un passato che non può tornare. Non si può tornare al trono, all'altare, all'epoca medievale, anche se è stata la più grande epoca cristiana. Significa che dobbiamo comunque continuare a difendere la verità. Dobbiamo lottare per ciò che la Madonna ripete continuamente. Il trionfo del suo cuore è immacolato. Perché ella è la madre ecclesia. È la madre della Chiesa. Bene, cari amici. Siamo così giunti alla conclusione di questa terza parte dell'identikit del cattoprogressista, forse un po' più breve delle altre, ma in fondo vi abbiamo dato varie informazioni per riuscire, se non altro, a farvi un'idea di questa perniciosa corrente cattoprogressista, talmente diabolica che nega senza negare, che vuole un altro cattolicesimo senza dirlo apertamente. Ma prima di salutarvi, vogliamo sempre leggervi un brevissimo brano che il padre Giulio Mainville scrisse nel suo ultimo libro, Dalla Cabela al Progressismo, la somma di come si è arrivati a questo progressismo, a questa falsificazione del cattolicesimo, che è il vero cristianesimo, lasciando intendere che invece si è finalmente capito qual è il vero cristianesimo. In questo breve brano, padre Mainville descrive qual è la situazione della Chiesa di questi giorni, proprio di questi anni. Si è insinuata all'interno della vera Chiesa, una falsa Chiesa. Infatti il padre Mainville parla di due Chiese, la prima la Chiesa della pubblicità e della propaganda, con Vescovi, preti e teologi mediatici, eppure con un pontefice dalle mosse ambigue, e l'altra la Chiesa del silenzio, fedele a Cristo nel suo insegnamento, appoggiato da alcuni preti, da alcuni Vescovi e da alcuni fedeli, dispersi come un piccolo greggio attraverso tutto il mondo. Un medesimo Papa, dice padre Mainville, presiderà entrambe le Chiese, che apparentemente esteriormente sarebbero una sola. Il Papa, con il suo atteggiamento ambiguo, favorirebbe l'equivoco. Quindi questa è la situazione che ha portato al catto progressismo. Una falsa Chiesa all'interno della vera Chiesa, governata da un pontefice ambiguo, che almeno a parole afferma di non volere e di non potere cambiare la dottrina, ma nei fatti, con l'equivoco, con l'ambiguità, sta invece rinnegando e tradendo la dottrina. Quindi cosa fare? Quello che abbiamo detto prima, difendere il cattolicesimo integrale. Questo non significa prendere e andarsene o disconoscere la legittima autorità dei legittimi pastori. Significa che invece dobbiamo perseverare, resistere, combattere, pregare e soffrire, difendere e diffondere la verità. Amare Cristo, amare la sua Chiesa, amare la sua Santissima Madre, avendo la certezza che la promessa della Madonna, che il suo cuore immacolato trionferà, sarà la nostra forza e la nostra consolazione. Bene, cari amici e cari fratelli nella fede, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito in questo indentikit del catto progressista che abbiamo fatto a puntate. Speriamo di avervi aiutato a chiarirvi un po' l'idea, perché, ripetiamo, è una situazione veramente molto difficile, ma una via d'uscita c'è, perché Cristo ha vinto il mondo, e, ripetiamo, c'è la promessa e la certezza del trionfo del cuore immacolato di Maria. E sia lodato Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria.